di bala firmerà con l'inter buonasera a tutti ragazzi oggi notizia flash breaking news se ne parla da molto tempo paolo di bala sembrerebbe in dirittura d'arrivo verso milano spondano in azzurra non ha ancora firmato stagione deve ancora finire sembrerebbe che se ne parli dopo ovviamente la finale coppa italia o per giugno sono un po perplesso sinceramente sono in parte contento in parte no non lo so ragazzi non lo so ultimamente di bala non è che abbia avuto un rendimento così ad alti livelli soprattutto anche di livello fisico sempre stato un po sottotono sempre infortunato stato fuori 12 mesi con la juve non è questa stagione contestato quindi lo so vedendo le situazioni dell'inter che ogni volta che prende un giocatore che già ha avuto acciacchi poi rimane fuori vedi sanchez vedi all'epoca ngolan vidal correa chi era l'altro altri che non mi vengono in mente c'è sempre qualcuno che quando ha già avuto infortuni in passato poi va all'inter e di conseguenza altri bosens di questi di questi tempi quindi non lo so potrebbe essere un grosso affare un grande affare non ne ho idea certamente se dovesse prendere di bala e tenere i vari correa lautaro e gli altri si fa già mezzo mezzo attacco argentino praticamente e giaco per un'altra stagione certo non sarebbe affatto male poi bisogna vedere appunto le condizioni di bala quali saranno io sinceramente non mi fido molto cioè sono contento in parte in parte c'è un buon giocatore a buona tecnica però mi puzza non so mi non lo so ragazzi io sono un po perplesso appunto ma solo dal punto di vista della sua del suo livello fisico perché questo qua io non mi fido io non mi fido ragazzi ditemi voi cosa ne pensate ma io non mi fido questo qua prenderà una barca di milioni 6-7 milioni all'anno quanto prenderà e se l'inter darà via lautaro sarebbe anche questo problema ma sinceramente parlare su di mercato mi sembra un po' presto allo stesso tempo perché abbiamo siamo in ballo con un campionato sono in ballo con la coppa italia e già mi già parlano a correre dalla sera ufficiale fare fatto poi devono vendere giornali devono fare click bait e varie cose però se dobbiamo stare a pensarci a me sta cosa di che arriva di bala non mi rende poi così felice sinceramente in parte sì ma più no più no che sì più no che si 70 per cento no 30 per cento sì sì perché è un buon giocatore esperienza qualcosa ha vinto quindi potrebbe essere decisivo in alcune in alcune situazioni in altre no però l'altro punto di vista al suo livello fisico mi preoccupa alquanto punti sti infortuni poi tutti sti acciacchi sono rischiosi sono quindi pagare il fior di milioni certo a costo zero cartellino non costa nulla gli paghi lo stipendio per carità è un affare perché di questi tempi su un incomposciore soldi però io sono un po perplesso poi magari all'inter fa faville magari tutto può succedere anche di tutti gli altri anche io sinceramente gecko non mi aspettavo facendo una stagione del genere perché gecko è stato preso al posto di lukaku per tappare il buco ma comunque se aveva alla sua età c'è il rischio anche lui che abbia degli acciacchi di per sé questa stagione ha avuto suo alto rendimento di bala sempre anche lui un punto interrogativo lui è chiunque un punto interrogativo però di questi tempi prendono a costo zero effettivamente un affare ma dall'altra parte sono un po preoccupato dal suo punto di vista a livello fisico poi niente di ufficiale io adesso aprirò questo dibattito vorrei sapere una vostra opinione un po curioso ma sinceramente in questo momento io ho più testa alla situazione attuale campionato coppa italia partite molto importanti poi si pensa al calcio mercato comunque ditemi cosa vuoi che ne pensate io sono titubante sinceramente sono molto titubante su questo possibile affare che è in basi cura conto dicono i giornali presto ragazzi iscrivetevi al canale e non ci vediamo stasera con il gameplay di inter empo le partite che si giocherà venerdì alle 18 45 e se riesco commenterò anche la partita di real madrid manchester city per vedere chi arriverà in finale di champions league a presto ragazzi sempre forse inter voglio un vostro commento ciao